I presidenti delle Camere di Commercio d'Imperia, Savone e La Spezia, Franco Amadeo, Luciano Pasquale e Gianfranco Bianchi si sono incontrati ieri a Imperia per un vertice riservato inerente all'unificazione dei tre enti camerali. La delibere di accorpamento dovrà infatti essere adottata entro la fine del mese per evitare che le decisioni vengano prese a livello centrale da Roma. Infatti i tagli messi in atto dal governo Renzi sui diritti camerali pagati dalle imprese rendono gli accorpamenti l'unica via per mantenere operative le Camere di Commercio. Il presidente Franco Amadeo ha sottolineato che quella di ieri è stata una riunione per porre le basi della successiva unificazione e che ancora nulla di definitivo è stato deciso. Secondo Amadeo comunque Imperia dovrebbe restare una sede di riferimento soprattutto per quanto riguarda i settori dell'agroalimentare e del turismo. Altri incontri si terranno entro breve.